Buonasera a tutto il sistema SIW, stasera qui con me c'è El Campeon Raffaele. Per favore, gradirei essere chiamato El Sangre Latino, ricomincia. Buonasera a tutto il sistema SIW, stasera qui con me c'è Sangre Latino, quello che è successo a Colossal ci ha lasciati tutti un po' spiazzati, ce ne vuoi parlare? Sì, ve ne voglio parlare, ma non qua. Ne parleremo la settimana prossima sul Ring. Inviterò Bon e mi spiegherò, ma non soltanto per lui, anche per voi, perché nessuno ha capito il mio gesto. E quindi settimana prossima sul Ring io e Bon faremo la prima Latin Confrontation. Molto bene. Gib, penso di doverti... Eh, 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 voglio dire un'altra cosa. Vieni. Ora che sono tornato, ora che sono al 100%, sfiderò di nuovo Alex per il titolo italiano. E al prossimo System Special potrai chiamarmi di nuovo Campeon. Guarda, questa l'ho portata per te. Grazie. Volevi, eh. Grazie.